Unire i valori dello sport e della promozione turistica della città a quelli del sociale con la partecipazione attiva del progetto Trieste Labora per il terzo anno consecutivo. Questo è lo scopo della barcolana sociale presentata stamani dall'assessore comunale ai servizi sociali Carlo Grilli e dal presidente della barcolana Mitia Gialluz. Come per gli anni precedenti lo staff del negozio laboratorio di via del sale 4 barra assieme alle persone con disabilità e agli operatori che lo frequentano hanno preparato circa 2000 gadget per gli iscritti alla storica regata. Al momento dell'iscrizione i partecipanti riceveranno un volantino che pubblicizza l'attività del negozio e un ricettario di cucina tifica triestina confezionato con un chiudipacco in ceramica sul tema appunto barcolana. Sono inoltre previste per la settimana dal 2 all'8 ottobre una serie di iniziative nell'area fra piazza Cavana e via del sale. Martedì 30 ottobre in piazza Cavana dalle 15 alle 18 verranno organizzati laboratori artigianali aperti a tutti. Dalle 16 alle 18 blind caffè in via del sale free coffee offerto dall'istituto Rittmeier. Alle 17 meteo permettendo esibizione in piazza Cavana della Magico Orchestra e del coro dell'associazione Girasoli. Dalle 16 alle 19 sempre in piazza Cavana fatti un selfie con la barcolana set fotografico aperto a tutti per scattarci una foto ritratto sullo sfondo di un originale barca vela realizzata all'interno del laboratorio Trieste Labora. Venerdì 6 ottobre dalle 17 alle 21 barcolana gallery night sfilata aperitivo fra piazza Cavana e via del sale. Alle 17 l'esibizione della Calicanto Band diretta dal maestro Fabio Clari. Sabato 7 ottobre poi apertura straordinaria del negozio Trieste Labora in via del sale dalle 10 alle 19. In occasione della barcolana Trieste Labora all'istituto le vetrine delle farmacie comunali e la parafarmacia presso la stazione centrale dei treni. Da un punto di vista più prettamente sportivo domani pomeriggio avverrà l'abbinamento fra le vele della barcolana by night e le associazioni ONUS che aderiscono all'iniziativa. È un evento che per noi rappresenta la possibilità una volta di più di dimostrare le abilità e non sottolineare quelle che possono essere invece le possibili difficoltà.